Siamo alle solite, un'altra discarica, ormai li chiameremo sversamenti clandestini, illegali. Il solito materiale, i materassi, i divani. Ma stavolta ci sono dei componenti che non avevo notato in altri sversamenti. Quello è rotolo, ad esempio, cosa sarà mai? Oppure quella cisterna, cosa conterrà mai? Ormai ne sono almeno 5-6 che ne ho censite, è sempre lo stesso schifo, senso civico zero. Ma stavolta hanno davvero esagerato. Guardate un po' l'ultimo fotogramma. Questo sversamento si trova a meno di 30 metri da ciò che vedete. Dalla caserma dei vigili del fuoco. Incredibile l'impunità di questa gente. Questa è la situazione purtroppo. Peppe Gravina, Your Reporter, grazie.